Marco Pasi, direttore confesercente Emilia Romagna, ecco come possiamo riassumere questo 23esima borsa del turismo? Quali novità? Cosa cambia nel turismo delle città d'arte? Possiamo dire che la borsa intanto è andata molto bene con 62 tour operator che provengono da 32 paesi dal mondo e oltre 400 seller che hanno proposto le loro offerte commerciali ai tour operator. Molti sono i contratti stretti, quindi da un punto di vista commerciale è stato sicuramente un successo. Abbiamo avuto parecchie novità nei mercati di lungo raggio, quindi provenienze di tour operator da paesi molto lontani come l'Australia, l'USA, gli Stati Uniti, Canada, Giappone, Corea del Sud e Cina, ma molto interessati alle nostre bellezze e ai nostri territori. Interessante anche il convegno sulla Cina che ci invita a molta innovazione però. Sì, ha dato molti spunti agli imprenditori per cercare di capire come accogliere al meglio il turista cinese, come organizzare la propria proposta per questo tipo di turismo, quindi tutti stimoli che gli imprenditori del nostro territorio sapranno sicuramente cogliere. Aggiungo una cosa, fra pochi giorni arriva il primo volo Philadelphia-Bologna, quindi dagli Stati Uniti si prevedono turisti. Sì, è molto importante perché Philadelphia comunque è collegato in modo veloce ed efficace con New York che naturalmente è la principale meta negli Stati Uniti, quindi potenzialmente questo volo può aprire delle prospettive molto molto interessanti e anche i due tour operator statunitensi che sono qui presenti oggi alla nostra borsa hanno apprezzato questo tipo di collegamento. E ancora questa borsa del turismo diventa un po' un punto di riferimento per tutta l'Italia che crede nella cultura e nel turismo culturale. Sì, sì, è un evento nazionale ed è ormai rimasto l'unico evento di commercializzazione di questo prodotto turistico, in particolare con il focus le cosiddette città minori, quelle fuori dai grandi circuiti di Venezia, Firenze e Roma ma che in realtà hanno delle bellezze incredibili da offrire. L'anno prossimo saremo ancora a Bologna? L'anno prossimo credo proprio di sì perché Bologna oggi siamo arrivati al settimo anno consecutivo di presenza, si dimostra una città che ha tutte le carte in regole per ospitare un evento di questo tipo, facilmente raggiungibile, un aeroporto molto efficiente e comunque una capacità anche ricettiva adeguata. Puoi ricordare qualche educ tour che comunque suscita interesse ai tuoi operator? Beh, sono stati molti colpiti anche dalla Dozza e i Molese e dalla stessa Budrio, però Bologna naturalmente, poi gli educ tour in Emilia che hanno toccato Piacenza, Reggio Emilia e Parma e in Romagna con Ferrara, Ravenna e le vali Marecchia e Conca sulle orme di Dante, perché non dimentichiamo che nel 2021 avremo i 700 anni dalla morte di Dante e che contiamo diventi un importante appuntamento da un punto di vista anche turistico. Mentre nel 2020 avremo? I 100 anni dalla nascita di Fellini e qui sappiamo che Rimini in particolare si sta preparando al meglio. Grazie. 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 Grazie.